Dopo la puntata zero torna weekend al cinema la nostra rubrica dedicata al grande schermo che quest'anno si arricchisce anche di interviste dedicate al teatro e nuove rubriche. In particolare per la stagione appena iniziata l'attenzione sarà puntata sul film della settimana. Tra le nuove rubriche in primo piano il film in pochi secondi una recensione rapida che consente di capirne al volo il contenuto. Il teatro e gli attori attesi ad Arezzo e provincia copriranno un'altra parte consistente del nostro appuntamento mentre non mancheranno i servizi su tutto quello che ruota intorno al cinema locale e ai protagonisti internazionali. Ma le novità non si fermano qui. Con l'hashtag Teletruria sarà possibile usufruire di una pagina Facebook e di un canale YouTube dove trovare tutto il materiale andato in onda il cui varo è avvenuto proprio oggi. La nave insomma è salpata. Il giovedì dopo il Tg della Sera alle 21 e 10, il venerdì alle 19 e 55 dopo il Tg Vallate, il sabato dopo il Tg Flash alle 14 e 10 e la domenica alle 8. Tutti pronti dunque a navigare sull'universo del cinema con Teletruria.